Serata estremamente piacevole in cui siamo stati molto orgogliosi di essere stati invitati, abbiamo conosciuto persone assolutamente interessanti, abbiamo condiviso con loro delle idee, abbiamo discusso di pallacanestro, siamo veramente molto contenti e speriamo si possa ripetere ancora un'altra volta una serata come questa. Una serata sicuramente molto interessante che ha messo in evidenza qual è l'attaccamento della pallacanestro Varese ai colori di Varese stesso, tanto che è importante sia l'impegno verso i giovani, verso quella che è una politica diversa da quello che è lo sport in generale adesso come tendenza in Italia, sport professionistico e il votarsi a servizio anche di quelli che sono i problemi sociali che la pallacanestro ha dimostrato. Tanto in bocca al lupo sia al presidente che al direttore che all'allenatore ovviamente che è quello che poi regge le squadre dal punto di vista pratico.